a mio fratello mio fratello è appena morto si chiamava abdul per un pugno di quattreni si è fatto esplodere a kabul ho appena nove anni e scrivo con un fucile tra le mani è l'unica possibilità che ho se voglio avere un domani io sono un bambino e mi hanno insegnato che la terra è giusta perché serve per avere la pace ma questa cosa qui io proprio non la capisco la pace non sempre arriva dopo una guerra è un abbraccio stretto di tutta la terra imbottito di esplosivi abdul ha ucciso otto persone e quattro erano bambini proprio come me sì come me e come abdul la guerra è brutta è solo uno strumento di potere ma qui non si può dire qui è meglio tacere è meglio fuggire piuttosto che sparare è meglio rischiare la vita in mezzo al mare io ho solo nove anni e sono solo tra le onde con gli occhi troppo chiusi perché non so nuotare mio padre ha preferito scappare piuttosto che vedermi con il fucile in mano mio padre ora è salvo ed io lo guardo da lontano non vorrei si dispiacesse vorrei dirgli che sto bene perché adesso posso giocare con abdul siamo di nuovo insieme grazie a tutti